Buongiorno, benvenuti. Questa non è una lezione formale, non proprio ortodossa. Immagino che sarà anche un po' noiosa. Spero di no. Il problema è che sarà lunga. Non posso utilizzare lavagnette, powerpoint o altro perché avremo a che fare con concetti, con storie, eccetera. Voi avete il vantaggio di poter poi ascoltare o riascoltare la lezione come meglio credete. Insomma, a tappe, mettendo la musica, facendo anche altre cose, insomma. Io invece sono costretto a questa cosa un po' noiosa, avanti allo schermo, un po' ingessato, eccetera. Parleremo come previsto dell'Unione Europea, delle sue mosse, delle sue strategie nel mondo post-guerra fredda. Cioè, all'indomani della dissoluzione del bipolarismo per la caduta dell'Unione Sovietica in un mondo ormai, diciamo, molto segnato dall'egemonia americana e anche, da non sottovalutare assolutamente, dalla incombenza cinese. E' necessario assolutamente intendersi intanto, su questo termine, mondo. Di che mondo parliamo? Sicuramente non più del mondo cui ci ha abituato la diplomazia tradizionale, cui ci ha abituato la storia dell'Ottocento, del Novecento, della stessa seconda metà del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E cioè un mondo dominato dalla presenza assoluta dello Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione è adottato anche, nella loro lotta di liberazione dai paesi del Terzo Mondo, su somiglianza dei dominatori di un tempo, del mondo occidentale. Lo Stato-Nazione, di fatto, è stata la cellula fondamentale, la forma di regolazione che ovunque i popoli si sono dati e che, diciamo, ha visto il suo trionfo nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, questo luogo di rappresentazione dell'umanità cui si accede tramite la rivendicazione della propria presenza internazionale attraverso lo Stato-Nazione. Il mondo di cui parleremo, il mondo rispetto al quale l'Unione Europea prova ad affermarsi dall'89-91 in poi, è un mondo non più caratterizzato solo da queste movenze esclusive. Vi sono anche altri attori. Ecco, il problema fondamentale è che il mondo di cui parleremo è un mondo animato da una molteplicità di attori. Attori privati, attori pubblici e dall'intreccio delle loro azioni. Questo è un processo che, in generale, noi abbiamo chiamato globalizzazione. Intendiamoci innanzitutto. Io userò questo termine, il termine di globalizzazione, in una maniera non molto usuale. In genere, quando si parla di globalizzazione, si parla di qualcosa che attiene all'economico, ai mercati, alle mosse dei mercati. Sapete quegli indici che al mattino ci svegliano e ci dicono la borsa così, che ci fanno tremare per le nostre pensioni, eccetera. Ecco, io non sono convinto di quel modo di osservare la globalizzazione, che è un modo molto determinato dall'egemonia del pensiero neoliberale, per cui i mercati con le loro mosse spiegano tutto. Credo che invece col termine globalizzazione noi dobbiamo disegnare una condizione umana molto diversa, che è stata enormemente trasformata dalla politica, dalla politica di grandi movimenti e sicuramente dall'azione dei mass media. Un grande analista dei mass media, Marshall McLuhan, il creatore di quella metafora, nel mondo ormai è un villaggio globale, insomma, amava dire che nell'epoca dell'innovazione, nell'epoca dell'elettricità, noi indossiamo l'umanità come una seconda pelle. Ecco, io parlerò della globalizzazione come di un processo determinato da questa nuova condizione, condizione umana, questo indossare l'umanità come una seconda pelle, che non è, badate bene, una forma di eguaglianza generale, anzi, si indossa l'umanità come una seconda pelle secondo vari gradienti, secondo le proprie capacità. È capace di indossare l'umanità come una seconda pelle chi ha molte risorse, chi parla molte lingue, indossa l'umanità come una seconda pelle in maniera molto diversa dal poveraccio che è senza casa e è stato un marciapiede, da chi è abituato solamente al dialetto, insomma, eccetera. Ecco, soprattutto parleremo, diciamo, della globalizzazione, dei processi di globalizzazione come processi che hanno creato diseguaglianze mai viste sulla Terra. Parleremo anche di altri processi che creano questa unità straordinaria del mondo contemporaneo. Processi che conosciamo da tanto tempo, che però hanno anche assunto negli ultimi... nell'ultimo trentennio, nell'ultimo ventennio, un passo completamente nuovo. Conosciamo il dollaro, conosciamo per tutto il Novecento, abbiamo imparato a conoscerlo nel secondo... nel secondo dopoguerra, nella seconda metà del Novecento, abbiamo imparato a conoscerlo nel 1971, quando la decisione di Nixon di rompere qualsiasi legame stretto dapprima a Bretton Woods nella famosa conferenza, insomma, che legava il dollaro alle altre monete e ne faceva l'ancora del sistema internazionale. Nel 71, come sapete, Nixon decise di liberare il dollaro degli Stati Uniti da questo graname e quell'atto presiedette alla creazione della moderna finanza senza controlli, senza più vincoli statuali. Quel dollaro, libero da qualsiasi gravame, ebbe un grande impulso dalla successiva crisi del petrolio. Grandi detentori di cosiddetti petrodollari di vendere gli emiri arabi, insomma, in questa stranissima commistione di postmoderno e medievale, insomma, no? Adesso, invece, quel dollaro conosce altre evoluzioni in mano agli oligarchi russi che hanno privatizzato quel grande paese, l'ex Unione Sovietica. Ancora più il dollaro conosce nuove evoluzioni in mano alla Cina, divenuto primario protagonista del commercio internazionale. Oggi, perciò, quando parliamo di finanza internazionale, di dollaro, euro, delle grandi monete, noi parliamo di processi completamente nuovi che nel ventunesimo secolo hanno assunto un passo completamente diverso. E' con questi che l'Unione Europea deve avere a che fare, eccetera. L'Unione Europea deve avere a che fare, ad esempio, con una nuova dimensione assunta dal petrolio. Il petrolio negli anni settanta, assieme al dollaro, ha creato grandi problemi all'Europa del tempo, l'Europa della Comunità Economica Europea, e ha continuato a crearli per tutta la fine degli anni 90, con le due grandi crisi petrolifere, eccetera. Oggi il petrolio è diventata un'altra cosa, non solamente perché l'ex Unione Sovietica è divenuto uno straordinario venditore di petrolio e cinge con i suoi oleodotti, metanodotti l'Europa, o meglio, i vari paesi europei. Stessa cosa avviene da parte, diciamo, della costa meridionale del Mediterraneo, con altri oleodotti e altre cose che giungono sulle nostre, che giungono, si stanno costruendo sulle nostre coste. Il problema è che il petrolio negli ultimi tempi sta assumendo anch'esso movenze completamente nuove, tanto da costringere, per esempio, un grande paese come l'Arabia Saudita a imboccare nuove vie, nuovi piani. Sembrava una risorsa inesauribile e invece una risorsa sottoposta a grandi tensioni. Perché? Perché gli Stati Uniti, con le scoperte del petrolio scavato sotto le rocce, il cosiddetto shale oil, è ridivenuto un paese non più importatore di petrolio ma addirittura esportatore, primo produttore produttore del mondo di petrolio. E quindi la scena da questo punto di vista è enormemente cambiata sotto l'urto anche della Cina e divenuta primo consumatore di petrolio al mondo eccetera. Noi dobbiamo fare i conti anche con le nuove questioni energetiche. Non a caso l'Unione Europea adesso con la nuova direzione della Ursula von der Leyen ha delineato un piano per divenire una grande realtà green libera dal peso del petrolio perlomeno come lo ha subito negli ultimi decenni. Questo è un mondo dicevo non più abitato dalle mosse esclusive dello Stato Nazione. è un mondo che ad esempio ci ha abituato all'uso di altri termini. Un tempo quando noi designavamo le regole entro le quali si muoveva la nostra vita utilizzavamo il termine governo come autorità indiscussa che dettava le regole del nostro vivere. Da un bel po' di tempo però ormai utilizziamo invece il termine governance. Cos'è la governance? Qual è la sua differenza rispetto al governo? Per governo si intende in generale esclusivamente quegli atti di governo che provengono dalle autorità pubbliche riconosciute nelle costituzioni di ogni paese di ogni Stato Nazione appunto. Per governance si intende qualcosa di molto diverso. Si intendono le regole dettate da una serie di accordi raggiunti in molte sedi le più diverse possono essere private possono essere semipubbliche o pubbliche eccetera da un coacerbo di attori con degli accordi diciamo reciproci facciamo degli esempi internet internet è regolata da una serie di regolamenti ordinamenti eccetera che si sono costruiti nel tempo sotto l'azione di laboratori di ricerca grandi imprese private eccetera e questi accordi sono stati assunti poi dai governi in sede nazionale e internazionale come regole generali del funzionamento del funzionamento di internet tanto che a volte qualche governo viene meno a queste regole insomma in alcuni paesi vi è per esempio la censura sui flussi di informazione eccetera ma ecco internet è regolata completamente da regimi dettati in sedi private possiamo fare l'esempio dei cosiddetti regimi internazionali quelli che regolano i voli delle aerolinee i commerci marittimi eccetera quelli non sono in genere a volte sono frutto di accordi internazionali stipulati tra gli stati a volte intervengono sulla base di convenzioni che si sono formate nel tempo stessa cosa per tantissimi altri regolamenti e sono cose che addirittura vengono statuite in sede pubblica o vengono dettate a volte da tribunali un esempio per indicare ad esempio una forma di governance che esiste che anzi fa proprio legge nell'unione europea possiamo citare una vecchia sentenza vecchia insomma del 1979 della Corte di Giustizia europea la famosa sentenza sul Cassis di Dijone che diceva che non c'era bisogno più di grandi regolamenti in sede europea a Bruxelles per governare i movimenti delle merci in tutti i paesi aderenti all'epoca alla comunità economica europea eccetera qualsiasi merce prodotta in qualsiasi paese in ottemperanza alle leggi di quel paese era libera di correre per tutta l'Europa purché diciamo non contravenisse ad esempio a questioni di salute pubblica o altro che cosa si faceva con quella sentenza si sdoganava lo stato minimo la regola minima perché qualsiasi merce che aveva meno gravami che era prodotta con meno regolamenti rispetto a quanto si faceva in altri paesi diveniva sicuramente una merce meno costosa e che quindi poteva correre per l'Europa più liberamente in questo modo in realtà si sdoganava la concorrenza tra ordinamenti statali per favorire diciamo il commercio sovranazionale il commercio diciamo europeo eccetera e questo concetto quello della della regola minima insomma è stato assunto addirittura poi nella nei trattati istitutivi dell'Unione europea con il concetto di sussidiarietà che cosa significa sussidiarietà sussidiarietà significa che non è necessario regolare il tutto in sede pubblica che se c'è già una regolazione intervenuta per l'azione di attori privati non c'è bisogno di un'ulteriore regola pubblica questa è una regola antica che ci viene dal pensiero dal pensiero cattolico e che dall'Unione europea è stata assunta addirittura nel trattato istitutivo di Marstead quindi come una sorta di regola costituzionale il pubblico si astenga dall'intervenire se il privato ha già regolato per bene un ambiente un modo di vita eccetera siamo anche diciamo adesso nel mondo con cui l'Europa ha a che fare il mondo di cui parliamo è anche il mondo creato primariamente dalle reti dell'informazione dal nuovo protagonismo dell'informazione digitale in tutte le sue forme governate dai nostri personal computer da oggetti come questi da cui vi parlo eccetera o addirittura da questi fantastici aggeggini che ci portiamo in tasca gli smartphone con cui in realtà scopriamo ogni volta con meraviglia crescente che ormai da tempo ci portiamo il mondo in tasca 24 ore in generale insomma il mondo con cui l'Europa ha a che fare è un mondo di questa informazione cioè è un mondo dominato per gran parte di questo periodo dal protagonismo di imprese americane dalla capacità che hanno avuto gli Stati Uniti d'America di fare una cosa assolutamente straordinaria il più grande processo di rivoluzione passiva forse della storia di mutare la cultura libertaria che caratterizzò il decennio degli anni 60 negli Stati Uniti con i nuovi movimenti per i diritti civili nuovi movimenti giovanili la contestazione della guerra del Vietnam eccetera di mutare quella straordinaria ricerca di libertà in una nuova crescita della società dell'informazione perché si pensava che il digitale questa cosa libera da gravami poteva essere uno strumento privilegiato per l'affermazione di una nuova libertà le imprese americane ma complessivamente diciamo la cultura istituzionale americana seppe mutare questo straordinario movimento di contestazione degli equilibri sociali e politici dell'epoca in una leva di innovazione tecnologica straordinaria che ci ha consegnato il personal computer lo smartphone eccetera tutto quello che oggi noi maneggiamo con straordinaria diciamo agilità chi non conosce la storia della nascita della Apple da parte di due giovani contestatori che fino a quel momento fino all'inversione del primo Apple 2 sbarcavano in lunario provando a fare le telefonate gratis sulle spalle dei grandi monopoli tecnologici questo è un mondo molto diverso dal mondo del Novecento che noi in genere troviamo nei manuali di storia eccetera e adesso voglio illustrarvi l'ultima diversità che è una diversità che ha molto a che fare con l'emergenza che stiamo vivendo quell'emergenza da coronavirus che mi inchioda qui sulla sedia in questa seduta telematica invece di stare in un'aula con voi insomma ed è la dimensione metropolitana del mondo in cui viviamo del mondo che abbiamo creato soprattutto in questo primo ventennio del ventunesimo secolo attenzione vi darò alcuni alcuni dati nel 2018 la popolazione nelle grandi città è ormai pari al 55% della popolazione mondiale della popolazione complessiva del pianeta il doppio rispetto a quello che era nel 1950 nel 2030 supereremo sicuramente il 60% della popolazione del pianeta in grandi città ma non in grandi città così tanto per dircela insomma no soprattutto in megacittà voi pensate che sempre in quel 1950 le città con oltre 1950 sono nato io all'epoca le megacittà erano solamente due nel mondo oggi sono oltre 30 nel 2016 le città con oltre 5 milioni di abitanti ospitavano un quinto della popolazione del pianeta fra qualche anno sarà un quarto ecco questo è il grande addensato metropolitano che oggi caratterizza il mondo moderno che fa oggi il mondo moderno eh questa è una cosa assolutamente straordinaria vuol dire che c'è un infittirsi di relazioni non più solo digitali ma umane in queste grandi grandi metropoli che sono la culla delle possibili pandemie cioè di quello che noi non possiamo più arrestare di quello che nessun paese da cui nessun paese al mondo più ormai si può si può isolare e attenzione questa popolazione addensata in queste grandi città eccetera ha una caratteristica fondamentale è sempre più anziana e fa sempre meno figli nell'ultimo decennio nell'ultimo mezzo secolo l'aspettativa di vita è cresciuta di oltre dieci anni nel pianeta questo ha provocato mutamenti incredibili questo spiega gran parte dell'andamento di alcune malattie o della pandemia come siamo alle prese eccetera questo è un mondo il mondo con cui ha a che fare l'unione europea abitato ancora costantemente da quella scoperta che come dire ha fatto la storia che divide la nostra la nostra storia umana in due grandi versanti di cosa parlo parlo dell'atomica della bomba atomica 6 agosto del 1945 l'umanità tutta ha fatto una capita in ritardo ma ha fatto una scoperta clamorosa che l'uomo ormai possedeva nelle mani il mezzo per provocare il suicidio dell'umanità perché una guerra atomica sarebbe diciamo un atto voluto di suicidio dell'umanità una cosa che prima nella storia non c'è mai stata prima si faceva guerra perché rimaneva un vincitore l'atomica non lascerebbe vincitori non lascerebbe nulla non lascerebbe nulla della della civiltà ecco l'atomica è stato qualcosa che ha caratterizzato molto la guerra fredda la guerra era fredda perché c'era l'atomica non si poteva fare si poteva solo minacciarla questo creava il riarmo atomico perché ognuno riusciva a minacciare l'altro ognuno dei due contendenti soprattutto Stati Uniti e Unione Sovietica minacciava l'altro della distruzione totale e quindi ognuno stava fermo ricordate la crisi la crisi di Cuba insomma no e il suo svolgimento io ragazzino me la ricordo diciamo come la vissi diciamo in televisione nel 1989 si pensava che questo rischio atomico fosse archiviato perché col 91 qualche anno dopo e con la scomparsa dell'Unione Sovietica si riuscì addirittura a governare il rischio che dall'Unione Sovietica uscissero fuori 4-5 repubbliche ognuna dotata di armamento atomico con il passaggio alla comunità degli stati indipendenti e si riuscì a trasferire le varie testate atomiche tutte quante alla Russia o addirittura addirittura con l'aiuto degli Stati Uniti a smantellare tante atomiche che erano all'epoca collocate sul suolo di una qualche repubblica dell'ex Unione Sovietica e il fatto che l'atomica la sua stragrande diciamo le atomiche nel maggior numero fossero in mano americana sembrava quasi una sorta di di garanzia di sicurezza eccetera poi invece è iniziata a dotarsi dell'atomica come di una sorta di polizza assicurativa per il futuro conosciamo tutte le varie crisi con l'Iran con la Corea del Nord tuttora attiva eccetera questo rischio oggi incombe ancora più nel nostro futuro sapendo che vi sono alcune evoluzioni in corso ad esempio la Brexit causa l'uscita dall'Unione Europea di una nazione l'Inghilterra che non solamente siede nel consiglio di sicurezza dell'ONU con potere di veto e causa il fatto che in Francia l'unico paese che ha l'atomica ufficialmente è la Francia che in Europa l'unico paese che ha ufficialmente l'atomica è la Francia mentre prima erano in due Francia e Inghilterra questo complica enormemente la rappresentanza dell'Unione Europea nel campo mondiale e ci fa tornare complessivamente questo scenario di una ricerca spasmodica da parte di vari attori internazionali di una di una atomica complica enormemente tutto lo scenario lo scenario mondiale e il nostro il nostro futuro si affacciano le tentazioni dei piccoli dei piccoli stati ma noi sappiamo anche che con l'11 settembre del 2001 la questione dell'atomica sia enormemente complicata ma di questo diciamo parleremo parleremo dopo ecco questo è il mondo di cui noi parliamo un mondo enormemente complicato un mondo che non può essere più spiegato con le vecchie geometrie ha bisogno di un nuovo pensiero e proprio perché ha bisogno di un nuovo pensiero noi sappiamo anche che quando il muro è caduto quando il bipolarismo si è dissolto quando l'unione sovietica si è dissolta lasciando spazio alla comunità degli stati indipendenti si sono affacciati molti interrogativi nel mondo dove andiamo verso che cosa e si sono affacciati interrogativi che spesso sono diventati veri e propri manifesti politici ed è con questi grandi interrogativi che l'unione europea che la classe dirigente europea ha dovuto fare i conti adesso ve ne esemplificherò alcuni tanto per spiegarci nel poco tempo che diciamo abbiamo perché se no ci sarebbe bisogno non di una lezione ma di più lezioni eccetera quali sono state le strategie fondamentali con le quali l'Europa ha dovuto fare i conti e quando dico Europa dico soprattutto noi europei dal momento che su queste materie spesso l'unione europea non ha avuto diciamo una strategia univoca un modo di vedere diciamo preciso delineato insomma voi ricordate tutti che la più grande profezia che fu avanzata all'indomani della caduta del muro fu di un ricercatore nippo americano Francis Fukuyama che riesumò rilanciò una famosa profezia hegeliana sulla sulla fine della storia con la caduta dell'unione sovietica Fukuyama vedeva il trionfo del pensiero neoliberale delle soluzioni neoliberali della società neoliberale la storia è andata diversamente possiamo dire rispetto alla profezia di Fukuyama e però è indubbio che quella profezia ha alimentato un grande rinascimento del pensiero neoliberale nella storia in Europa noi siamo stati molto molto condizionati tutta l'evoluzione della stessa unione europea è stata un'evoluzione che soprattutto nei primi passi ha visto il trionfo di ideologie strategie e soluzioni neoliberali Fukuyama in realtà ha avuto una straordinaria fortuna nelle strategie concrete diciamo messe in atto quasi contemporanea a Fukuyama però un'altra profezia quella di Samuel Huntington sullo scontro delle civiltà Huntington era molto più pessimista di Fukuyama e dal tramonto dello scontro bipolare nel tramonto dello scontro neoliberale gli intravedeva il risorgere di straordinarie identità fornite dalle culture e dalle religioni destinate a cozzare tra loro e intanto intravedeva per il ventunesimo secolo il cozzo tra diciamo il mondo occidentale e soprattutto il mondo il mondo islamico e quello di quello di Huntington era un grido di avvertimento insomma no? chiedeva all'occidente di di difendersi da quello che poteva essere una sorta di assalto sulla stessa più o meno se volete lunghezza d'onda ma con un segno quasi opposto si collocava invece Benjamin Barber con un volume famoso all'epoca Jihad contro McWord contro McDonald's insomma no? egli non vedeva tanto un'aggressività islamica anzi sottolineava una sorta di aggressività del mercatismo occidentale della nostra capacità cioè di mercificare tutto ed imporre a tutto il pianeta una mercificazione della vita della vita umana ecco su versanti diversi eccetera queste grandi profezie si sono contese l'anima del pianeta e la stessa anima europea alimentando movimenti correnti di opinione orientamento dei partiti politici finché i partiti politici sono rimasti e non hanno vissuto una loro crisi incredibile eccetera queste sono state le grandi correnti di opinione io amo però sottolineare anche la presenza di un'altra corrente di opinione minoritaria che a parer mio è ben rappresentata da un volume che all'epoca nei primissimi anni 90 uscì per segnalare che mondo nuovo stava venendo fuori dalla crisi del bipolarismo il libro di due osservatori angloamericani Aaron Singer Max Singer e Aaron Bildavski The Real World Order L'Ordine Mondiale Reale che poi loro sottotitolavano Zone di Pace e Zone di Guerra ecco loro dicevano attenzione il pianeta è destinato a dividersi diciamo in pezzi un pezzo dove domina dove avremo la pace e un pezzo dove invece avremo guerre guerre ricorrenti eccetera ma soprattutto è un mondo che sarà caratterizzato da straordinarie diseguaglianze ecco questo è il pensiero che ha animato alcune correnti minoritarie che però nel corso soprattutto degli ultimi vent'anni insomma nei primi anni del ventunesimo secolo si sono manifestati con alcuni movimenti che spesso hanno raggiunto dimensioni di massa pensiamo ad esempio al movimento pacifista ad un certo punto salutato come il più grande attore del pianeta questi movimenti si sono alimentate di queste visioni un po' più realistiche della scena della scena globale e che cioè il mondo insomma poteva correre seri rischi finire dilaniato in lotte incredibili vale anche la pena di sottolineare che in tutte queste profezie dei primi anni 90 che hanno salutato l'avvento dell'Unione entro le quali si è mosso i primi passi l'Unione Europea che in tutte queste visioni c'è una mancanza straordinaria ed è quella della Cina non molti osservatori si erano accorti che la Cina dopo le grandi scelte del 1979 con la creazione delle zone economiche speciali si affacciava al mondo come una straordinaria opportunità e pochi osservatori si erano accorti che ad esempio gli Stati Uniti avevano salutato quella svolta cinese con una propria svolta la svolta che li ha portati a come dire a passare dall'opzione atlantica come asse del mondo su cui governare il mondo su cui incardinare i movimenti del mondo ad un'asse del pacifico ad una straordinaria alleanza con la Cina qualcosa che le grandi multinazionali americane ormai transnazionali transnational corporation hanno immediatamente compreso all'epoca portando a straordinarie delocalizzazioni in quelle aree nelle aree cinesi che poi hanno alimentato una straordinaria crescita della produzione primaria di tanti beni e del commercio internazionale questo è il mondo che rispetto al quale si apprestava l'Europa a compie dei suoi primi passi quando la caduta del muro faceva cadere quella quell'Europa centro del mondo ma centro anche della contesa bipolare e disponeva tutti i paesi europei in un nuovo spazio noi sappiamo tutti che non ci fu immediatamente unità nelle classi dirigenti europee sui primi passi dell'Europa da compiere a testimoniarlo c'è il grande dibattito tra Mitterrand all'epoca presidente dei francesi e Jacques Delors all'epoca presidente della commissione europea la commissione europea che aveva pianificato l'avvento entro il 1900 entro la metà degli anni 90 del grande mercato unico europeo Mitterrand preferiva una scelta confederale di un'Europa unita lui diceva dall'Atlantico agli Urali adesso che non c'è più diciamo la cortina di ferro non c'è più il muro di Berlino eccetera ma fatta del protagonismo soprattutto di stati sovrani mentre invece Delors pensava maggiormente ad una scelta federale con al cuore la comunità economica europea già realizzata che si sarebbe man mano allargata ad altri protagonisti stando però ben attenta a non disperdere quella unificazione già raggiunta eccetera e che quindi propendeva per maggiore cautela ma con una maggiore attenzione alla soggettività di questa di questa Europa di un'Europa diciamo prettamente federale come giunge l'Europa diciamo all'appuntamento della caduta del muro e successivamente della scomparsa dell'Unione dell'Unione sovietica beh quella caduta del muro è inaspettata da da molti dai dai più è stata però preparata da pochi gli Stati Uniti di Reagan l'hanno l'hanno voluta Reagan la reclamò fortemente a Berlino dicendo Gorbaciov butta giù butta giù quel muro e Gorbaciov non si era sicuramente scandalizzato di quella proposta Gorbaciov aveva provato a governare quel processo a determinarlo in gran parte anche con la perestroica diciamo sul piano interno come nuova politica diciamo istituzionale e con il grande accordo sugli euromissili questo straordinario atto di distensione che aveva mutato la scena europea completamente se volete delegittimando in gran parte gran parte della classe dirigente europea che si era invece allineata all'Ianno alle nuove basi missilistiche eccetera ma anche lo stesso movimento pacifista europeo che aveva chiesto l'opzione zero niente euromissili sul suolo europeo che improvvisamente da un giorno all'altro vedeva questa parola d'ordine strappata di mano dal protagonismo del duo Reagan Gorbaciov Reagan eccetera qual è la classe e quindi si giunge diciamo a creare a dar vita all'Unione europea con il silenzio diciamo del grande movimento pacifista che aveva però come dire animato le strade per quasi tutti gli anni gli anni ottanta insomma no chi sono i protagonisti della svolta della svolta europea ma la classe tutto sommato è la classe dirigente che ha governato nei vari paesi per tutti gli anni ottanta insomma quasi tutti gli anni ottanta la Tetsch in Inghilterra in Germania Kohl apparentemente un dirigente scialbo però un dirigente che amava citare sempre un motto quando passa l'angelo della storia non esitare aggrappati alla sua veste e vola con lui e vedremo come Kohl saprà aggrapparsi molto bene e per molte volte all'angelo della storia che passa in Italia c'è Andreotti il sempiterno Andreotti circondato però anche da altri attori ad esempio Guido Carli Banca Italia lascerà il suo segno diciamo nelle scelte soprattutto economiche che saranno tracciate a Maastricht Mitterrand è il grande protagonista di questa svolta ma è un grande protagonista che vive anche in questi anni quasi terminali del suo mandato un grande un grande dramma il dramma di essere stato un presidente eletto dai francesi con un mandato quello di trasformare in senso socialistico la Francia e di aver dovuto rinunciare dopo nemmeno un anno a questo tentativo di utilizzare le leve dello stato nazione per trasformare completamente il suo paese lui ha dovuto invertire la rotta adottare una rotta nettamente europea perché ha visto che ormai lo stato nazione non ha più le leve per governare in maniera autonoma una svolta di quelle dimensioni addirittura una svolta che muta il carattere sociale dell'accumulazione in un paese l'Europa prova ad avventurarsi con questa nuova attrezzatura quella dell'Unione dell'Unione europea nel nuovo secolo si scontrerà con delle sfide incredibili ne possiamo adesso enumerarle un po' tutte si temeva il millennium meltdown che all'incrocio con l'anno 2000 ci sarebbero stati grandi problemi per le reti dei computer che non avrebbero retto il passaggio alla nuova numerazione 2000 appunto piuttosto che il tradizionale 1009 che tutti i computer diciamo erano settati diciamo su altre date invece in uno sforzo straordinario si è riusciti nel mondo a superare questa sfida con il nuovo secolo è arrivato invece un nuovo protagonista è quello che si è rivelato il 21 settembre a New York con l'assalto alle torri un nuovo protagonista il terrorismo internazionale terrorismo internazionale che ha fatto il suo ingresso sulla storia con una sorta di atomica dei poveri ecco io la chiamo così perché dico atomica dei poveri che cosa hanno fatto loro non avevano l'atomica l'hanno creata da nulla però utilizzando come dire le forze della globalizzazione a disposizione dei jet lanciati contro dei grattacieli nel cuore della metropoli ricordate le questioni di cui parlavamo prima la dimensione metropolitana del mondo moderno ebbè l'energia diciamo che sta tra un jet e l'energia depositata in un grattacielo inquadrata dalle telecamere del mondo ci ha fatto scoprire un nuovo modo di creare disastri incredibili da allora si può vivere con l'incubo che qualcuno riesca ad andare in qualche grande bacino di acquedotto a lanciare una pozione velenosa o altre cose simili cose cui ci stanno abituando tante fake news ad esempio tirate tirate fuori con le pandemie insomma eccetera ormai noi viviamo con diciamo anche gli incubi di che cosa può far esplodere questa interconnessione straordinaria che anima il mondo il mondo moderno poi è venuta la guerra al terrorismo poi è venuta la seconda guerra del golf e l'Europa si è divisa su di essa insomma eccetera ecco quella è una grande scommessa che noi abbiamo mancato un'altra scommessa che l'Europa ha mancato e adesso è numero che si è scommessa e poi andremo invece nella storia un po' più concreta è stata quella delle primavere arabe l'Europa l'Unione Europea non ha voluto saperne nel 2011 quando è scoppiato quello straordinario movimento di innovamento nel mondo arabo l'Europa spaventata da quello che poteva riverberarsi sulle proprie coste è stata lontana non ha aiutato coloro che chiedevano rinnovamento un atteggiamento completamente diverso da quello osservato con la grande stagione aperta dal 1989 e dal crollo del muro un atteggiamento completamente diverso rispetto all'apertura mostrata prima già nei confronti del dissenso del dissenso sovietico e poi rispetto a tutto quello che è accaduto nell'Europa dell'Est con le primavere non abbiamo voluto avere nulla che fare è cominciato all'epoca il muro e tutto ciò che l'Europa aveva anche provato a far prima si pensi al dialogo di Barcellona al partenariato euro mediterraneo eccetera è finito nel silenzio e in un nulla incredibile è solto poi il grande protagonismo cinese ma l'Europa è stata capace di una politica verso la Cina assolutamente no anche su questo abbiamo mancato per cui i vari paesi europei hanno avuto ognuno un proprio modo di organizzare o se volete subire il dialogo con il nuovo protagonista cinese ad esempio nelle grandi sfide lanciate da questo l'esempio della via della seta è il più eclatante come possiamo diciamo mostrare ancora un altro dato di una grande scommessa mancata dall'Europa beh l'immigrazione sta lì a rivelarcelo ogni giorno quello che sta accadendo sulle coste greche al confine con con la Turchia al confine dei vari paesi dell'Europa del West Ungheria e altri ancora insomma con con la Turchia ci sta a rivelare lo straordinario fallimento diciamo su questa su questa materia su cui anche su questo ogni paese procede con i propri con i propri mezzi quindi a volte subendo diciamo il fenomeno di immigrazione nelle forme anche parossistiche insomma con cui l'abbiamo vissuto ad esempio noi italiani osservando invece come ad esempio i tedeschi abbiano saputo nel tempo giocare delle scommesse su questo terreno una prima volta inventando tutta una nuova serie di regole quanto a immigrazione e rispetto delle costituzioni dei paesi ospiti conoscenza della cultura eccetera e adesso con le ultime scelte che la Germania sta facendo nel provare a selezionare grandi masse di immigrati per il futuro soprattutto nei segmenti del lavoro più qualificato perché scopriamo che l'emergenza demografica crea sfide alle nostre società per cui abbiamo bisogno di aprirci in maniera molto seria all'acqua allora